Firenze, città d'arte, amata e conosciuta in tutto il mondo per la sua storia, i suoi monumenti, le opere dei grandi artisti conservate nei più importanti musei. Esiste però una Firenze sconosciuta, quella dei corsi d'acqua che attraversano sotterranei il suo territorio, che scavano nella sua pancia e che testimoniano una storia antica, dall'insediamento delle prime civiltà fino ai giorni nostri. Un percorso tutto da conoscere e riscoprire, punteggiato da canali, cascate, opere di incalanamento, fontane, pievi, castelli e conventi, raccontato dal documentario Firenze, città d'acque, di Massimo Beccattini, Sandro Nardoni e Luciano Nocentini. Firenze la conosciamo in superficie e di quelle che vediamo in superficie ci passiamo sempre diciamo in maniera distratta. Puntualizziamo invece dove sono diciamo dei crocevia di vita dimenticata e riportandole alla luce e alla conoscenza di tutte le persone, magari soprattutto anche dei fiorentini. Principalmente il Mugnone, che oltre a essere quello più grande e quello più ricco di storia. L'Africo, che nasce alle pendici di Fiesole e si porta dietro anche lui una bella storia, anche se purtroppo o in qualche maniera per fortuna per la città ora è tombato ma non lo vediamo più. Un altro fiume minore ma che sto vedendo che viene recuperato anche come parco è il mensola, anche lui ricco di storie e l'altro è il Terzolle che parte da Cercina, Faccareggi e va a unirsi nel Mugnone a Sandonato. Il documentario Firenze città d'acqua è film sostenuto da Toscana Film Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, vuole dare della città un'immagine totalmente originale, legata ai miti, alle storie e ai personaggi che corrono lungo i fiumi minori che la attraversano. L'idea principale dalla quale noi siamo partiti per realizzare questo documentario è stata quella di non dare un'immagine stereotipata di Firenze ma di darne una completamente diversa utilizzando un punto di vista che è quello dei quattro torrenti che entrano, queste quattro forse d'acqua che entrano in città. Il Mugnone, l'Africo, il Terzolle, il Mensola. Ma è la grande letteratura che ha celebrato il nostro fiume. In una novella dell'ottava giornata, Boccaccio, ci racconta di Calandrino. Abbiamo scoperto che ognuno di loro porta personaggi, miti, storie che vanno dall'antichità romana fino praticamente agli autori del Novecento, pittori, scrittori, artisti che vivevano lungo questi fiumi e che l'hanno raccontati senza contare il Boccaccio il quale ha nobilitato i due affluenti, direi maggiori forse, cioè il Mensola e l'Africo, facendoli diventare due personaggi mitici, due amanti, il Pastore Africo e la Ninfa Mensola, che alla fine si uniranno soltanto in forma d'acqua dentro l'Arno. Firenze Città d'Acqua sarà presentato in anteprima assoluta martedì 22 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze. Insieme ai registi saranno presenti in sala per incontrare il pubblico, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente di Publiacqua Lorenzo Pera, il presidente del Consorzio di Bonifica Tremmedio Valdarno Marco Bottino, introdotti dalla caporedatrice della TGR Toscana Cristina Di Domenico.